Un intervento protesico che ha già stabilito un primato a livello mondiale. Si tratta infatti di una sostituzione di caviglia grazie a un impianto messo a punto e personalizzato sull'anatomia del paziente per mezzo di una stampante in 3D. La ricostruzione è stata eseguita grazie alla collaborazione tra chirurghi ortopedici e ingegneri dell'Istituto Ortopedico Rizzoli. L'equip chirurgica, coordinata dal direttore della Clinica Ortopedica 1, diretta dal professor Cesare Faldini, ha operato un paziente di 57 anni che aveva perso la funzionalità articolare in seguito a un incidente stradale. Il suo caso ha acceso la speranza per chi ha subito fratture analoghe. Sono pazienti che non possono ricevere protesi tradizionali perché hanno avuto traumi destruenti e quindi un sovvertimento completo dell'anatomia e pertanto abbiamo dovuto utilizzare una tecnologia che affianca ingegneri e ortopedici costruire su misura una soluzione per loro per riportarli a camminare correttamente. È stata utilizzata una tecnica mini-invasiva che prevedeva delle mascherine personalizzate, ovvero dei frame che vengono applicati in una piccolissima incisione che permettono di sostituire l'articolazione con un recupero molto più rapido. Quindi dopo due giorni iniziare a camminare, il movimento e poi nell'arco di un mese, un mese e mezzo, un recupero completo. La protesi è stata realizzata grazie alla collaborazione con il laboratorio di analisi del movimento del Rizzoli. Siamo partiti naturalmente dalla diagnosi chirurgica e siamo passati per le immagini diagnostiche standard per poter costruire sopra le immagini un modello anatomico del singolo paziente. Su questo al calcolatore è stato possibile progettare le singole componenti protesiche e discutere con il chirurgo del suo perfetto posizionamento e degli strumenti anche per ottenere il risultato che ci si era proposto al calcolatore.